di essere sociologi, li denuncio come sociologi. Quando io ricordo il giovane Darednoff che lavorava per me nel mio comitato a Parigi e ha fatto il socio, giovanissimo, magro, povero, certo oggi è baronetto, di Bombamma, gli altri, no, la situazione di oggi richiede un'assunzione di responsabilità tremenda. Due logiche oggi si contendono la lealtà degli esseri umani e soprattutto dei giovani. C'è una logica tradizionale che chiamerò logica della lettura e della scrittura, logica cartesiana, una logica analitica che richiede tre fondamentali presupposti. Silenzio, solitudine, concentrazione, la logica della lettura, l'analisi del libro, valutare se le conclusioni vanno d'accordo con le premesse. Un discorso, Massimo, c'è un'altra logica, la logica dei grandi proprietari, dei postriboli planetari, la logica dell'audiovisivo, per cui io non ho più un'analisi, non ho più un'impostazione analitica, parola per parola, riga per riga, capitolo per capitolo, semplicemente vengo colpito, ipnotizzato, mesmerizzato dall'immagine sintetica e fulminea. Sono lì fermo e passo da un'immagine all'altra e sono bombardato da stimoli, da informazioni, in questa specie di pattumiera universale, in cui ci trovo tutto, basta cliccare, ci trovo tutto, dal discorso del Papa alla pedofilia. Tra l'altro a volte c'è persino un esso. Ora, tutto questo naturalmente è straordinario, siamo in presenza di... No, ai fini della giusta punizione per i sacerdoti, da ridursene. Ora, noi abbiamo il giovane docci, è talmente ricco di informazioni da essere povero, non riesce a organizzarle secondo un piano razionale, secondo una priorità. e quella che è purtroppo un'antica tradizione, un difetto direi, una tradizione italiana, questo gusto estetico, questo gusto dell'immagine. Per cui noi abbiamo in sostanza, da Leonardo all'industrial design, abbiamo inventato la bellezza anche per le macchine, lasciatelo dire a me che per dodici lunghi anni, anzi troppo brevi, ho lavorato con Adriano Olivetti, sempre accanto a lui, anche quando ero lontano nel mondo, tutti i sabati mi telefonava. Eh, io ho visto noi, noi purtroppo abbiamo una gioventù che si butta sull'effimero ed è vittima inconsapevole dell'eterno ritorno dell'identico, della creazione artificiosa, dello spontaneo, a caccia di nuovi esperimenti, di nuove sensazioni che la inarridiscono, la distorcono, la disorientano e la riducono a una sorta di gregge incapace, di presa di posizione, con questa tana primitiva che è la tecnologicamente avanzatissima discoteca, con questa disperazione che poi si manifesta nei grandi incidenti per le autostrade alle 5 del mattino, all'alba del nuovo giorno. Io credo che da questo punto di vista il 68 abbia ancora una validità. Non voglio parlare, non sono pronto, studio il problema, non mi interessa per il momento, non voglio parlare fra il 68 e il terrorismo. Posso solo dire che il 68 voleva innovare, il 68 innova, il terrorismo vecchio e nuovo spara e uccide. Il terrorismo è la tomba del 68. Però questa esigenza straordinaria, Questa esigenza che ho visto brillare negli occhi di tanti giovani. Io ho avuto a Trento, fra i miei studenti, alcuni uomini che in qualche modo sono diventati a loro modo purtroppo famosi. Uno si chiamava Renato Curcio, un altro si chiamava Riccardo Scartettini, la mia assistente si chiamava Paolo Besuscio, il mio miglior studente, passato attraverso molte esperienze, si chiamava Mauro Rostagno. E nel loro ricordo, in qualche modo, che trovo la forza per continuare a riflettere e a cercare di rendermi conto di che cosa mai sia accaduto. Grazie.